Mister Amaulo pronti per una nuova avventura, una squadra quasi completamente rivoluzionata quest'anno. Sì, inizia la nuova stagione con una squadra praticamente nuova e quindi avremo bisogno di questo periodo di preparazione per trovare un po' l'equilibrio e l'assemblamento giusto per l'inizio del campionato. Quindi partiamo con umiltà, con la consapevolezza che c'è da lavorare e per cercare di fare meglio della passata stagione. Abbiamo dietro una società forte alle spalle che sicuramente ha fatto del tutto per mettere su una squadra competitiva e da parte nostra cercheremo di dare il massimo per questa società. Mister, vi siete rinforzati sugli esterni, tanti ritocchi soprattutto al centro campo, una squadra appunto come dicevo rivoluzionata. Adesso forse parlare di moduli è prematuro, però insomma cercheremo di adattare la squadra a quelle che sono le caratteristiche di ognuno. Sì, adesso parlare come hai detto te di moduli è prematuro, dobbiamo un attimo conoscerci bene tutti quanti e poi vedremo strada facendo qual è il modulo che si addice di più a questa squadra. In mente c'è qualcosa, però poi bisogna verificarlo sul campo e abbiamo questo periodo di preparazione per provare varie alternative, compresse le varie amichevoli per trovare l'assetto all'equilibrio giusto. Dare un giudizio adesso sul girone sembra prematuro, poi dopo secondo un punto di vista non è importante il girone per cui andremo a giocare. Sicuramente saranno tutti i gironi come è da sempre, in serie D ci saranno gironi di serie D, sono girone equilibrati, bisogna interpretarli bene a prescindere di chi hai di fronte, c'è da giocare tutte le partite senza nessun risultato scontato. Quindi a prescindere dal girone sicuramente ci sarà ogni domenica un equilibrio in campo e poi verrà interpretata bene ogni partita per far sì di raggiungere un obiettivo che uno si è prefissato.